Un piede in fallo, una fatalità, un istante che è costato la vita a Gianluca Girotto, speleologo 46enne di Aosta, morto domenica a Zelbio, nelle cavità carsiche della Grotta Tacchi sotto i piani del Tivano. Dopo nove ore di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato e poi estratto dalla grotta all'alba di ieri mattina. A Zelbio sono intervenuti i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno lavorato ininterrottamente quasi 12 ore per ritrovare lo speleologo inghiottito dalla grotta. Gianluca Girotto non era un principiante, era istruttore di zona del CAI della Val d'Aosta, era arrivato domenica a Zelbio con sette amici e colleghi per esplorare la Grotta Tacchi, un complesso carsico situato sotto i piani del Tivano. La tragedia attorno alle 16, il gruppo di speleologi era in profondità da un'ora e mezza e i membri della spedizione, tra i quali lo sfortunato 46enne valdostano, si sono avvicinati a un torrente sotterraneo per osservare il corso d'acqua. Girotto, in un istante, è stato trascinato via dalla corrente, forse dopo aver messo un piede in fallo. Non è stata affatto un'imprudenza, ma una fatalità, ha detto Gianfranco Vanzetti, presidente dello Speleo Club CAI della Val d'Aosta, che domenica era con lui nella Grotta Tacchi. Gli amici l'hanno visto sparire nell'acqua e non hanno potuto fare nulla se non risalire in fretta in superficie per chiedere aiuto. Gli speleologi del soccorso alpino hanno iniziato immediatamente le ricerche, rese complesse dall'impetuosità del fiume sotterraneo. A luna, nella notte tra domenica e lunedì, sono riusciti a individuare Girotto. Per estrarre il corpo dalle cavità carsiche, gli Speleo Sub, 40 in totale di esperti intervenuti, hanno percorso 250 metri di cavità, allargando alcuni passaggi troppo stretti con piccole cariche esplosive. Girotto è morto probabilmente per annegamento dopo essere stato trascinato dal fiume sotterraneo. La procura di Como ha aperto un fascicolo che servirà ad accertare le dinamiche dell'incidente. Gianluca Girotto, elettricista 46enne di Aosta con la passione per la speleologia e la bicicletta, lascia due figli adolescenti. La salma sarà trasportata domani in Val d'Aosta e i funerali si svolgeranno giovedì mattina alle 10.30 nella chiesa di Sant'Orso ad Aosta.